Bene, oggi voglio affrontare una domanda che mi è stata rivolta diverse volte, quindi vorrei dare una risposta per tutte le domande analoghe che sono state fatte. Infatti spesso mi viene chiesto da persone che sono interessate ad acquistare bitcoin, cioè che sono interessate a entrare dentro bitcoin, viene chiesto se bitcoin è affidabile, se bitcoin continuerà nel tempo, se continuerà a vivere, se avrà la vita lunga o se verrà presto abbandonato, se verrà hackerato, se i computer quantistici lo distruggeranno eccetera eccetera. Tutte queste domande ovviamente sono volte a comprendere se la trasformazione del denaro fiat in bitcoin è una cosa vantaggiosa o se diciamo ci si troverà in un futuro a non avere più bitcoin e che esisterà solo la valuta fiat. Ebbene, anziché andare a guardare una per uno con tutte queste possibilità e quindi dare la mia opinione su questo, la mia opinione è comunque che bitcoin è destinato a continuare a resistere per lungo tempo, ma al di là di questo vorrei affrontare il problema da un punto di vista differente. Infatti nel 1971, il 15 agosto del 1971, Richard Nixon fece un discorso molto importante negli Stati Uniti in cui sospese la convertibilità del dollaro in oro. Questo fu detto che era una misura temporanea, tuttavia è una misura che non è mai stata rimossa. Da quel momento le regole del denaro sono cambiate, il sistema ora è basato sul debito e quindi risparmiare denaro non significa risparmiare valore. Questa è una cosa estremamente importante. Quindi al momento attuale, oggi, col denaro che abbiamo oggi, con la valuta fiat che c'è oggi, risparmiare denaro sotto forma di fiat non significa risparmiare valore, quindi preservare il proprio valore. Vuol dire anzi perdere il valore, perché col passare del tempo questo denaro viene eroso da tanti fattori, dall'inflazione, dal debito, dalle manovre delle banche, dalle commissioni bancarie, eccetera eccetera. Quindi la cosa che mi permette di preservare il valore veramente è quella di acquistare dei beni preziosi, cioè di avere anziché il denaro fiat che non rappresenta più il valore, avere invece dei beni duraturi con un valore intrinseco. Per esempio l'oro, l'argento, quindi se io acquisto questi metalli preziosi, non sto facendo un investimento, ma sto preservando il valore che è il mio patrimonio. Ecco, Bitcoin rappresenta un vantaggio rispetto all'oro, per esempio. Infatti l'oro, che è il metallo prezioso per eccellenza, si dice che è il metallo di Dio, l'oro ha comunque degli svantaggi, perché l'oro è difficile da stoccare, da trasportare, l'oro è difficile da suddividere in piccole porzioni, l'oro è difficile da riconoscere, da determinare con sicurezza, l'oro è pericoloso da detenere in grandi quantità, perché ovviamente c'è una possibilità che venga rubato, che venga trafugato. È complesso da spendere, non è facile spendere un ingotto d'oro. Quindi Bitcoin ha tutti i vantaggi dell'oro, ma risolve questi svantaggi. Tutti i vantaggi dell'oro perché? Perché Bitcoin è un asset scarso, c'è un numero finito, non può più aumentare oltre a un certo limite, che sono i famosi 21 milioni, la sua inflazione va continuamente diminuendo, occorre dell'energia per minarlo, per tenere la rete stabile, per tenere la rete sicura. Quindi Bitcoin rappresenta l'oro del XXI secolo e risolve tutti i problemi che invece l'oro ha ancora. Quindi il Bitcoin è facile da detenere, facile da trasportare, facile da scambiare, può essere utilizzato facilmente per essere speso, quindi ha dei grandi vantaggi. Possiamo dire che è l'oro del XXI secolo, in quanto è un modo per stoccare valore, ma è un modo adatto a internet, adatto alla generazione di internet. Quindi per concludere posso dire che secondo la situazione monetaria attuale, che è quella generata a partire dal 1971 e con cambiamenti che quel famoso discorso del 1971 ha creato, detenere valuta fiat in sé è solamente una perdita di valore. Quindi per quello che sono tutti i discorsi che abbiamo affrontato, quindi per tutto quanto abbiamo detto, sicuramente a mio modo di vedere acquistare metalli preziosi e Bitcoin può essere un modo molto valido per cercare di preservare il proprio valore e il proprio patrimonio.